I giochi del tricolore sono una splendida occasione per la città e per i ragazzi di Reggio per fare un'esperienza direi unica. Abbiamo avuto la possibilità di vedere anche altri sport anche qua in piazza, altri ragazzi che come loro hanno la possibilità intanto di viaggiare il mondo e conoscere nuove culture, nuove città grazie allo sport ed è bellissimo. Per questa sesta edizione dei giochi del tricolore si è voluto pensare a dei momenti di conversazione per parlare di sport, cioè per parlare di quante cose può fare lo sport. Per me i giochi del tricolore sono una manifestazione che possiamo quasi definire un esperimento perché dentro ci sono tanti ragazzi di tante nazioni che hanno voglia di andare oltre quelle che sono i loro confini, i loro limiti personali ma anche quelli culturali e che si uniscono grazie allo sport. Il sit in volley azzera le disabilità tra le persone, possono giocare assieme normodotati con portatori di endica, tutti quanti seduti per terra a divertirsi insieme. Grazie a tutti.